Prova video a 60 fps, 1080p la qualità, facciamo qualche scatto veloce per vedere come funziona lo stabilizzatore ottico, passiamo in macro, torniamo su una panoramica, qualità eccellente, proviamo un po' lo zoom, qua siamo a 1,5x, qua siamo a 2x, zoom digitale, autofocus, qua siamo a 3x, e qua 4x, e qua 8x, purtroppo in 8x fa un po' di fatica però lo stabilizzatore ottico si fa sentire, ripeto 1080p 60 fps LG G2